Mette radici anche in Abruzzo il movimento Noi con Vannacci, che ha nominato come coordinatore regionale l'ex parlamentare leghista Giuseppe Bellachioma. Il nuovo movimento a supporto di Vannacci, che va ad affiancare l'associazione Il Mondo al Contrario, già attiva da diverso tempo, è stato presentato in mattinata a Montesilvano nel corso di una conferenza stampa alla quale ha preso parte anche il senatore Umberto Fusco, presidente nazionale di Noi con Vannacci. Noi oggi cominciamo un grande cammino, è una grande comunità che si allargerà senz'altro e lui sarà una persona idonea a fare questo tipo di lavoro. Giuseppe Bellachioma non è che c'è da scoprirlo oggi, è una persona straordinaria che già ha dimostrato il suo valore, avendo avuto altre responsabilità e come coordinatore regionale non di un'associazione, ma di un partito in cui ci sono stati risultati eccellenti. Vi trasformerete anche in un partito? Allora per adesso noi siamo un'associazione, per essere precisi, un'associazione culturale nata da qualche mese dopo aver lavorato per un comitato elettorale a supporto della candidatura di Roberto Vannacci nelle elezioni europee. Bellachioma illustra gli obiettivi del movimento in Abruzzo ed evidenzia quelli che considera i punti di forza della proposta del generale Vannacci. Il movimento nasce il 19 settembre a Viterbo, il generale ha tenuto a battesimo questo organismo che lui ha riconosciuto ufficialmente. Posso dire che comunque già adesso ci stanno pervenendo tantissime richieste di adesione, al tempo stesso però è chiaro che il movimento va strutturato, va organizzato, e su questo ci impegneremo su tutte e quattro province ad organizzare degli incontri, sapendo di partire da una base che è il risultato che l'onorevole Vannacci ha avuto in Abruzzo, i suoi 16.170 voti, che rappresentano il 3,25% dell'elettorato abruzzese alle europee.